Ha bisogno di una nuova classe dirigente, è inutile che ci giriamo intorno. Troppe sconfrette, bisogna che questo gruppo dirigente venga sostituito da uno nuovo, un nuovo gruppo dirigente che a mio parere deve, a proposito di territorio, attingere a piene mani tra tante amministratrici, amministratori locali che hanno vinto mentre si perdeva o non si vinceva a livello nazionale, che hanno un rapporto col territorio molto forte e aprire alla società civile questo partito, portando dentro competenze e passione di chi si riconosce un'idea di una sinistra moderna, riformista che abbia al centro il tema del lavoro e dei lavori, che consideri l'impresa quando è serio un valore sociale, che punti decisamente a differenza della destra sulla scuola e la sanità pubblica, che metta l'ambiente al centro dei propri lavori e anche la legalità ovviamente. Abbiamo bisogno di dire che l'onestà, la sobrietà, il rispetto e le regole alla luce anche di quello che sta accadendo vergognosamente a Bruxelles, tornino al centro dell'azione politica.